Ciao bambini! Proviamo oggi a fare la lezione di storia quasi come quando la facciamo in classe. Partiamo dalla lettura della pagina 28, poi leggeremo la pagina 29 e successivamente faremo uno schema nel quaderno di storia per fissare meglio i concetti di queste due pagine. Allora nella pagina 28 si parla dell'era quaternaria o neozoica che noi abbiamo già studiato che va da due milioni di anni fa fino ad oggi. L'era quaternaria o neozoica è l'era in cui avviene l'evoluzione dell'uomo, si passa dall'australupiteco a come siamo oggi. Guardando i titoli e i disegni riusciamo già a capire tante cose. La prima domandina che troviamo qui è com'era la terra? E quindi nei successive righe cercheremo di capire come si formava, com'era sviluppata, com'era fatta la terra a partire da due milioni di anni fa. E com'era la vita sulla terra? Se vedete nelle immagini vediamo alcuni animali con il pelo e anche con uno strato di grasso sotto la pelle. Se vi ricordate quando abbiamo affrontato questa parte abbiamo studiato che gli animali furono costretti ad evolversi e a mettere su il pelo e ad accumulare grasso sotto la pelle per sopravvivere alle glaciazioni. E quindi probabilmente in questi due paragrafi si parlerà proprio di questo. Allora adesso metto l'audio e cerchiamo di seguire sul libro quanto sentiamo. Pagina 28. La storia della terra. Era quaternaria o neozoica. Da due milioni di anni fa a oggi. L'era quaternaria o neozoica è l'era in cui avviene l'evoluzione dell'uomo da australopiteco a come siamo noi oggi. Io direi adesso di prendere la nostra matita e di sottolineare le cose più importanti. Per esempio in questo rettangolino la cosa più importante da dire è che l'era quaternaria è l'era in cui avviene l'evoluzione. Quindi sottolineiamo la parola evoluzione dell'uomo perché si passa da australopiteco a come siamo oggi. Adesso andiamo avanti e sentiamo ancora l'audio. Anche qui dobbiamo sottolineare che gli oceani e i continenti assumossero la forma che hanno oggi. Andiamo avanti. Durante l'era quaternaria si intensificarono le glaciazioni periodi di grande freddo alternate a periodi con temperature più umidi. Si ghiacciarono i mari, gli uomini si spostarono dall'Africa e si insediarono ovunque. Allora qui è molto importante la parola che è scritta in viola che è la parola chiave cioè le glaciazioni. Cosa sono le glaciazioni? Sono periodi di grande freddo alternate a periodi con temperature più umidi. Il fatto che ci siano stati glaciazioni ha causato anche il fatto che i mari si siano ghiacciati e questo ha permesso agli uomini di spostarsi dall'Africa ed insediarsi ovunque. Quindi qua sottolineiamo gli uomini si spostarono dall'Africa e si insediarono ovunque. Andiamo avanti a sentire l'audio. Com'era la vita sulla terra? Anche le piante e le specie animali continuarono a evolversi. Per resistere al clima rigido gli esseri viventi dovettero attrezzarsi. I mammiferi infoltirono il pelo e accumularono grasso sotto la pelle. Qui cosa dobbiamo ricordare? Che le piante e gli animali continuano ad evolversi e soprattutto per resistere al clima rigido gli esseri viventi si adeguano, si attrezzano e quindi cosa succede? I mammiferi infoltiscono il pelo e accumulano grasso sotto la pelle. Ora ci spostiamo nella pagina a fianco che parla della storia dell'uomo. Come vedete dall'immagine ci sono uomini un po' più... scusate avevo un problema con il computer. Allora stavamo dicendo che dall'immagine si capisce anche l'evoluzione dell'uomo. Si passa da uomini più simili a scimmie che comunque camminano in posizione eretta a uomini che mano a mano cominciano ad utilizzare strumenti e a lavorarli. Vedete l'immagine qua sotto? Allora vediamo cosa c'è scritto e poi sottolineiamo. Pagina 29 La storia della Terra La storia dell'uomo Nell'era quaternaria comincia la storia dell'uomo Quindi qua tutto questo rettangolino è importantissimo. È in questa era che comincia la storia dell'uomo. L'era quaternaria è l'era dell'evoluzione dell'uomo. Per raccontare la storia dell'uomo, gli studiosi del passato, paleontologi, archeologi, paleoantropologi, hanno esaminato i reperti trovati in diversi siti. Questi studiosi dividono l'era quaternaria in due grandi periodi. La preistoria, cioè prima della storia, il periodo in cui non ci sono documenti scritti La storia, il periodo che ha inizio con la nascita della scrittura Allora questo che abbiamo appena sentito è importantissimo Allora abbiamo capito che gli studiosi dividono il periodo della storia dell'uomo in due grandi periodi La preistoria e la storia La preistoria, la cui parola vuol dire prima della storia, è tutto quel periodo prima dell'invenzione della scrittura E quindi è il periodo in cui non abbiamo documenti scritti, non ci sono fonti scritte La storia comincia quando nasce la scrittura Ripeto questi due concetti L'era quaternaria si divide in due grandi periodi La preistoria, che vuol dire prima della storia Ed è tutto quel periodo in cui l'uomo non scrive In cui non ci sono documenti, fonti scritte La seconda parte, il secondo periodo invece, è la storia Quando l'uomo inizia a scrivere Andiamo avanti Anche qui ci sono due concetti importantissimi Abbiamo detto che l'evoluzione dell'uomo si divide in preistoria e in storia Preistoria è tutto il periodo prima dell'invenzione della scrittura Storia invece è il periodo dopo dell'invenzione della scrittura Ma qui diciamo anche un'altra cosa La preistoria a sua volta si divide in due parti Il paleolitico e il neolitico E la differenza tra paleolitico e neolitico viene da come l'uomo sa lavorare la pietra Quindi sottolineiamo qui nel testo La preistoria è divisa in due periodi Paleolitico e Neolitico Allora, adesso prendiamo il nostro quaderno Io mi sono già preparata la paginetta Ho scritto la data Solesino, 18 marzo, oggi mercoledì Ho scritto che abbiamo letto le pagine 28 e 29 E ho fatto uno schema riassuntivo della pagina 29 Come titolo ho messo la storia dell'uomo E ho scritto Nell'era quaternaria cominciano Comincia, scusate, mi sono accorta di questo errore Adesso Comincia la storia dell'uomo Gli studiosi dividono l'era quaternaria in questo modo Era quaternaria Che si divide in preistoria e in storia La preistoria è tutto quel periodo che è prima della storia E a sua volta si divide in paleolitico e neolitico La storia invece inizia con l'invenzione della scrittura Bene bambini, vi saluto Spero di essere stata abbastanza chiara E vi auguro di riposarvi Visto che questo riposo è anche un po' forzato Se ci sono problemi Se ci sono delle cose che non riuscite a capire Dite ai vostri genitori Che lo comunicheranno alla mamma di Laura E a sua volta me lo farà sapere Un bacione Ciao a tutti